Salve a tutti! Sono Pierino Dadda e mi occupo di formazione immobiliare attraverso un'academy che insieme ai miei soci e collaboratori ho creato, che si chiama Real Estate Academy e che attraverso un'esperienza quotidiana fatta di incarichi, ribassi, proposte, accettazioni, compromessi ma soprattutto fatturato, siamo a contatto con la realtà che più di tutti coinvolge il nostro lavoro, la nostra attività che tutto sommato ci ha scelto o comunque sia ci mette in condizione di dire che sicuramente facciamo il lavoro più bello del mondo. Ecco, proprio questa è la finalità dell'academy, mettervi in condizione di poter accedere alle vostre migliori risorse per poter ottenere delle performance e dei risultati sicuramente migliori, sia voi direttamente ma soprattutto i vostri collaboratori che tutti i giorni condividono il lavoro con voi e che attraverso il loro linguaggio, il loro modo di comunicare con i vostri clienti determinano in qualche modo il risultato della vostra agenzia. Quello di che vi chiedo è di fare il primo passo, di uscire dai vostri schemi, di uscire dalla presunzione molte volte di immaginare che sappiamo tutto, abbiamo sempre bisogno di imparare, di capire nuove tecniche, nuove metodologie di vendita. Pertanto contattateci, fate il primo passo e sapete perché per due motivi, il primo perché io sono il pierino della formazione immobiliare, il secondo perché la formazione aumenta il fatturato e quindi vi aspetto.